agli inizi del secolo scorso. Tra le montagne dell'Appennino Umbro Marchigiano, una storia di polvere, fatica e sudore. Un viaggio alla scoperta di luoghi nascosti e dimenticati, per raccontare storie di uomini e di rocce. Pietra dopo pietra, giorno dopo giorno, anno dopo anno, sono state scavate gallerie, scivoli e pozzi. Un sistema sotterraneo immenso, lungo più di 10 chilometri. Vi portiamo con noi nelle cave sotterranee di Marna di Val d'Orbia. Grazie. 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 Grazie.